Allora, sei uno dei pochi che ha imparato quanto è fondamentale leggere, ma cosa te ne fai di leggere un libro alla settimana se poi non ricordi nulla? In questo video ti spiegherò la tecnica che uso io per ricordare le cose importanti da tutti i libri che leggo. Te ne ho parlato in un video precedente, ti ho spiegato come leggere un libro alla settimana e il ritmo che avevo io prima di avere mio figlio. Quest'anno ne ho fatto qualcuno di meno, ma comunque ho letto diverse decine di libri. Nel tempo mi sono accorto che, chiaramente, il numero totale di libri che leggi non è sufficiente. Se non ti ricordi nulla delle cose importanti che trovi nei libri, cosa te ne fai? E così ho provato diverse tecniche per memorizzare, per ricordare. E ho scoperto che certe funzionerebbero, ma semplicemente non riesci a metterle in pratica, come una dieta fantastica che però è troppo difficile. E quindi, mettendo insieme suggerimenti da diversi mentori virtuali che seguo, sono riuscito a trovare il sistema che funziona per me e secondo me è molto adattabile e quindi lo puoi applicare anche alla tua situazione. Il problema è questo. Abbiamo imparato a studiare a scuola e a scuola non ci insegnano a studiare bene. L'idea che hai quando leggi un libro, se ti convinci di dover ricordare, di dover imparare qualcosa da quel libro è che devi riassumere, devi avere un'immagine completa di quel libro come avresti dovuto fare a scuola per prendere il massimo dei voti. Ma se tu leggi un libro per la tua crescita personale o per far crescere il tuo business, non ti serve tutto quello che c'è scritto dentro, perché spesso nei libri di saggistica c'è una larga parte dedicata alle storie. Queste storie sono fondamentali perché servono a trasmettere i concetti. Noi esseri umani impariamo meglio dalle storie, memorizziamo meglio le storie, ma non serve che ti ricordi tutte le storie. Inoltre, spesso, quando leggi molto, trovi lezioni ripetute, quindi non ti serve ricordare tutto da ogni libro. Oppure semplicemente trovi lezioni che non ti servono, lezioni che non fanno a caso tuo in questo momento o con cui semplicemente non sei d'accordo. In questo senso ho trovato due categorie di libri. Ci sono i libri più ispirazionali e motivazionali, che hanno tutto il loro senso di esistere, e da questi spesso non è che devi fare dei riassunti, degli schemi, devi trarre delle lezioni specifiche, ma ti servono appunto per avere motivazione, per avere ispirazione. Magari li rileggi di quando in quando, oppure salvi una citazione, ma non hai bisogno di una immagine, di uno schema completo del libro. E poi ci sono invece quelli proprio più pratici, quasi tecnici talvolta, che invece ti insegnano qualcosa. Un libro sul copy, per esempio, che ti insegna un metodo per stilare, per creare una pagina di vendita. Questo qui è un libro molto tecnico. Di questo invece hai bisogno magari di una immagine più completa, di una lista almeno delle cose che ti insegna. A questo secondo insieme di libri applico il concetto che ho trovato la prima volta su quattro ore alla settimana di Tim Ferriss, che è quello del just in time learning, ovvero imparare quando le cose ti servono, detto in maniera molto spiccia. Quindi sostanzialmente non è che tu leggi 50 libri sul coaching perché un giorno ti potrebbe servire il coaching. Nel momento in cui devi lanciare il tuo primo infoprodotto, leggi un libro sui lanci, leggi un libro su come creare un ebook, come creare un video a seconda di cosa vuoi mettere dentro il tuo infoprodotto, su come insegnare in generale. In quel momento quelle cose li ti servono e te le ricorderai meglio e sarai anche più bravo a riassumerle per poterle ricordare di più in futuro. Allora se mi segui da un po' forse sai che sono stato un secchione e quindi il modo più standard, il primo modo che ho pensato di usare per ricordare quello che leggevo è creare i riassunti completi dei libri. Cosa facevo? Leggevo un libro intero, sottolineavo alcuni passaggi oppure lo ascoltavo e poi mi segnavo sulla mia to-do list che avrei dovuto fare il riassunto. Sono riuscito molto molto di rado in questo modo a creare il riassunto completo del libro. Perché? Perché i libri importanti stavo due ore a riassumerli, dovevo riprenderli in mano, magari era passato un po' di tempo da quando avevo letti e dovevo appena scorrere tutte le note scrollando il libro sul Kindle per riuscire a capire a cosa si riferivano queste note, non potevo semplicemente fare un copia e incolla delle note dalla pagina degli highlight del Kindle. Quindi questa pratica non ha mai funzionato. Quello che uso adesso è un sistema molto più snello che richiede però un impegno costante nel periodo in cui leggo il libro. Allora come faccio? Quando c'è un libro più ispirazionale, motivazionale, uso quello che in inglese si chiama Common Place Book. Mi sono ispirato a Ryan Holiday. Lui usa proprio dei cartoncini e con la penna quando trova un'idea o un passaggio interessante di un libro, anche proprio per come, solamente per come è scritto, se lo segna su questo cartoncino e si salva queste scatole di cartoncini, talvolta solo divise per argomento, talvolta magari legate ad un progetto come un libro, perché lui è autore di molti libri. Questo è un Common Place Book. Io semplicemente uso Evernote e ho un tag che si chiama Common Place. Ci ho messo un puntino davanti, così viene fuori per primo nei suggerimenti dei tag quando salvo le note. Quindi, quando trovo qualcosa interessante, apro una nuova nota dello smartphone su Evernote, applico il tag Common Place, che appunto compare tra i primi, e scrivo di cosa si tratta. Lo faccio per i libri, lo faccio per i podcast, ogni volta che c'è così un passaggio che non fa parte di un grande sistema. È un passaggio che mi interessa, potrei non trovarne nessun altro in quel libro. E funziona di più per i libri così più ispirazionali, in cui non devo fare un vero e proprio schema diviso per capitoli. E mi segno la citazione, la fonte, quello che mi serve. Eventualmente aggiungo altri tag che mi faranno trovare più facilmente la nota in futuro. E questo è un modo non strutturato di salvare le cose. Raramente poi cerco le note salvate su Evernote, però in realtà solo il fatto di scrivermi questo passaggio spesso me lo fa ricordare. Le cose più importanti mi rimangono in testa solo per il fatto di averle scritte. Di altri libri, invece, come ti dicevo, voglio ricordarmi più uno schema, voglio avere un'immagine abbastanza complessiva, perché alcuni passaggi sono cruciali e sono pochi, però voglio avere anche in piedi tutta la visione, la panoramica del libro, di cosa insegnava il libro. Allora come faccio? Il libro chiaramente lo leggo un po' alla volta, qualche minuto al giorno, oppure lo ascolto come audiobook. Di conseguenza cosa faccio? Al termine, diciamo, della sessione di lettura mi prendo di solito un quarto d'ora, non serve molto di più. Apro un documento su Google Docs, che è il deposito che uso per la mia conoscenza. In questo caso non uso Evernote perché su Google Docs è molto più facile la formattazione e uso spesso titoli e lenchi puntati e su Google Docs sono più veloci con le scorciatoie da tastiera. Mi metto al computer di solito, quindi non sul cellulare, mi prendo questo quarto d'ora e faccio così. Se il libro lo stavo leggendo in formato ebook, torno indietro alla prima pagina che ho letto quel giorno, seguo le varie sottolineature e tiro giù i punti importanti, strutturandoli con liste puntate o eventualmente con titoli di sezione. Se invece era un audiobook, apro la versione ebook e la scorro perché chiaramente la scorro molto più velocemente dell'audiobook e però siccome l'ho letto da poco, l'ho ascoltato da poco, riesco a saltare attraverso il testo velocemente e a tirar fuori solo i punti importanti che comunque avevo già così in testa che vagavano dopo aver ascoltato l'audiobook. Quindi sostanzialmente rivedo la parte che ho appena letto o ascoltato e estraggo i passaggi importanti. Questo però richiede che durante la lettura io sia stato concentrato. Se ho la testa che vaga è meglio che non legga in metà un podcast o un po' di musica o assolutamente niente stia in silenzio. Quindi prima di tutto c'era una lettura concentrata ma questo è un prerequisito. Se la lettura era concentrata poi appunto in un quarto d'ora, in dieci minuti, riesco a tirare fuori quello che mi serviva e lo metto in questo Google Doc. Cosa succede? Che alla fine della lettura mi ritrovo con il riassunto dell'intero libro ma sono riuscito a farlo perché mi sono preso dieci minuti al giorno e dieci minuti ogni sessione di lettura. Non ho aspettato di prendermi due ore, tre ore, quattro ore a seconda di quanto era lungo il libro alla fine della lettura. Solo il fatto di annotare subito dopo aver ascoltato mi permette di ricordare molto meglio. In più se seguo il concetto del just in time learning mi ricordo ancora di più perché sto imparando delle cose che mi servono in quel momento lì e di conseguenza probabilmente quello che ho appena annotato lo condividerò in una discussione con Samuele per esempio oppure semplicemente lo userò nella pratica quotidiana o con un cliente. Questa è la tecnica che funziona molto meglio se leggi solo libri molto buoni, molto interessanti per te ma soprattutto scritti molto bene. Quindi quando scegli un libro non prendere un libro appena uscito di un tizio famoso. Prendi un libro che è stato consigliato da altri personaggi di cui tu ti fidi, un libro che magari è stato pubblicato qualche anno fa e continua ad avere valutazioni molto elevate e continua ad essere citato da molte persone. Questi libri contengono contenuti migliori, contengono contenuti sempre verdi e sicuramente sono stati spiegati meglio, sono stati scritti meglio di tanti altri libri. In più una cosa che ho cominciato a fare sempre più spesso gli ultimi due anni è riascoltare più volte lo stesso libro se è difficile oppure se è molto buono. La seconda volta mi capita di saltare qualche passaggio o di riascoltarlo a velocità accelerata perché semplicemente so che alcuni passaggi sono meno utili o perché ho bisogno di meno lentezza, la lentezza mi serviva per capire. Posso andare più veloce perché ho già capito, devo solo rinfrescare e soffermarmi su alcuni dettagli che potrebbero essermi sfuggiti, soprattutto per libri molto densi. Questo vuol dire che il tuo conteggio totale di libri letti sarà inferiore, però chiaramente ti ricorderai molto di più e questo è un vantaggio molto grosso se vuoi salire al livello superiore. Se anche tu hai capito l'importanza della lettura ti consiglio innanzitutto di andarti a guardare i video sulle tecniche per leggere un libro alla settimana, ma soprattutto iscriviti alla newsletter di Italian Indie perché ogni settimana condivido il riassunto, i passaggi più importanti di un libro che appunto ho letto. Ce n'è uno diverso ogni settimana. Per iscriverti alla newsletter basta che vai sulla home page italianindie.com e in cima vedrai un pulsante per iscriversi. Riceverai una guida gratuita che ti interessa se vuoi lanciare il tuo business online e poi ogni settimana il riassunto di un libro sulla crescita personale, la produttività, il business online, tutto quello che può servire ad una persona che vuole creare la propria indipendenza. Ti ringrazio, ricorda di iscriverti al canale, di attivare la campanella per i prossimi tutorial, i prossimi video utili a tutti gli indipendenti e gli aspiranti indipendenti. Ci sentiamo, ciao!